C'è in una struttura No se non esplode Tranquillo Oh mio dio vabbè Tranquillo quando le prove saranno pronte Passerò tutto ad Anna Cosa? Come ho fatto con l'aperizia psichiatrica Non ci credo Anna? Oh ma che state scherzando? Questa è una cosa gravissima Anna? Appresto tesoro Mi manchi Che schifo comunque Anna dove l'hai trovata l'aperizia psichiatrica? Cosa? Dove l'hai trovata? Sì l'ho fatta io Qua non c'è scritto così però Non c'è scritto Io guardate Nella mia peonicitudine Come la vostra perché sono ormai destituito Dai miei poteri Penso di poter credere ad Anna perché quelle robe Sembravano scritte da lei e non dalla rapitrice Effettivamente Ripeto ormai Sono uno come voi Brutto sudicione L'ho scritta di fronte a te Non è vero Non lo trovi